Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video su Nathan Toys Adesso apriremo il primo gugizu dei Dino Power Lui si chiama Tiro Ora andiamo a vedere le sue caratteristiche Ok, ora tiriamo fuori Tiro dalla scatola Ok, andiamo a vedere un pochino come va Guardate, schiacciate dietro la testa, si apre la bocca E guardate, è super allungabile E poi dentro c'ha dei denti, guardate E poi si possono anche togliere le mutande Vedete? Guardate, è fantastico, si può allungare la coda È fantastico, può fare tutto Bene, ora mi fanno da parte Tiro E passiamo al secondo gugizu dei Dino Power Ora andiamo a vedere le sue caratteristiche Bene, ora tiriamo fuori Tiro dalla scatola Vedete, se schiacciate dietro la testa, si apre la bocca E vedete, è super allungabile Wow, è fantastico E poi guardate, dentro c'ha le palline Bene Tiro è uno dei miei preferiti Vedete, ha un corno spezzato Non saprei, magari è stato spezzato da una battaglia Bene, passiamo al terzo ed ultimo gugizu di questo video Che si chiama Bratzor Ora andiamo a vedere le sue caratteristiche Bene, ora tiriamo fuori Bratzor dalla scatola Questo è Bratzor È molto raro e difficile da trovare Ora vi faccio vedere cosa può fare Guardate, si allunga tantissimo E dentro c'ha delle palline E poi si può aprire la bocca E poi si può allungare il collo Ora vi faccio tirare sul collo per farvelo vedere meglio Bene ragazzi, il video finisce qui Se vi è piaciuto questo video Mettete un bel pollice in su E iscrivetevi al mio canale Ciao Ciao